È un bel pasticcio, molte chiacchiere, i disoccupati aumenteranno, i licenziati anche e i giovani e le donne non entreranno nel mondo produttivo. Noi riteniamo come Italia dei Valori che questo governo stia continuando a fare danni al Paese, prima se ne va meglio è perché il Paese non rinasce, la crescita non c'è e ci sono sempre troppe tasse.